Federica Zappone, mentre guidiamo la nuova Range Rover Venar, ti chiedo, tu sei amministratore unico di EcoConsult Nord West SRL, che cosa fa la tua azienda? La mia azienda è una società di consulenza, noi ci occupiamo di consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, qualità, ambiente, quindi certificazioni. Abbiamo anche una divisione anti-incendio, quindi installiamo, manuteniamo e vendiamo impianti anti-incendio, ma abbiamo anche una branca molto importante che è la branca della formazione per la quale la nostra società è accreditata alla Regione Piemonte, quindi sì, ci occupiamo anche di formazione.